C'era una volta il Natale, tre racconti natalizi di Giuseppe Veronese, venerdì 22, la grande fiera del giocattolo, là vi erano tutti i regali possibili che i genitori potevano fare ai loro bambini per renderli felici, la vigilia di Natale, il sorriso, ma sei felice e sorridi alla vita che è molto bella. E per Natale, le ciabatte. Sarei contentissimo se un giorno potessi ricevere così tanto da poter acquistare un bel paio di ciabatte. Tre lunghi racconti natalizi in Buonanotte Bambini, venerdì 22, domenica 24 e lunedì 25 dicembre alle 19.30 su Rete 1. Grazie. Grazie.